Ciao ragazzi, oggi vediamo come costruire un'antistatico di ristrazione uscita per quelli che capiscono le componenti elettroniche prima ho riciclato pezzi di velcro e le ho impostato a un tape con un stapler uscita un'antistatico con un'antistatico simile a quello nel video facciamo un ruolo in la tape e inseriamo l'antistatico una scuola deve essere in contatto con la pelle dopo questo uscita una resistenza con questi colori bianco, rodo, grino e gordo e connessiamo tra il filo e il crocodile isoliamo con la tape ora usiamo il braccio e attacciamo l'alligator clip al case del dispositivo dove stiamo lavorando e siamo sicuri di non damagare le componenti elettrici ok ragazzi, è tutto per questo video grazie per aver guardato e iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video grazie per aver guardato e iscrivetevi al canale